Ben trovati dentro il consiglio al nostro settimanale che ci porta all'interno del consiglio regionale della Toscana. Tre argomenti anche in questo nostro appuntamento. Ecco i titoli. Apertura dedicata alla commissione di inchiesta dei vaccini. Fantozzi è il presidente. Poi no ai termovalorizzatori, no alle nuove discariche. Arriva così il piano della Toscana sui rifiuti. E poi parleremo del centro di riabilitazione toscana, il polo di riferimento del settore che ha sede come struttura a Terra Nova Bracciolini in provincia di Arezzo. E quindi si è insediata a martedì 14 di settembre la commissione di inchiesta finalizzata alla verifica del corretto svolgimento delle misure messe in atto dal sistema sanitario regionale per contrastare la pandemia da Covid-19 e in particolare della campagna vaccinale toscana. È stato eletto presidente Vittorio Fantozzi di Fratelli d'Italia, vicepresidente Federica Fratoni del Partito Democratico, vicepresidente e segretario Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle. La votazione palese è stata espressa dopo la presentazione di una sola lista annunciata dalla Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ed è il risultato di contratti informali avuti con i diversi gruppi politici. Sicuramente non circoscriveremo la nostra attività su quello che è la campagna vaccinale, ma ci occuperemo a tutto tondo della gestione della pandemia. Sarà quindi possibile attraverso il lavoro di questa commissione ricostruire i passaggi più critici o quelli che sono rimasti ancora senza una risposta verso la comunità toscana che ci hanno interessato negli ultimi due anni. Questa in due direzioni. Da un lato per fare pienamente luce e trasparenza su quelli che comunque sono stati passaggi di ordine amministrativo e dall'altra parte per sostanzialmente evitare che in futuro anche attraverso una ricostruzione diciamo in attività costruttiva di questa commissione si possano impedire e verificarsi di situazioni come quelle che abbiamo vissuto. Sia per i tempi che per le modalità questa commissione in realtà potrebbe essere efficacemente riassunta nel lavoro che la terza commissione sanità sta conducendo da tempo. Noi siamo mesi che audiamo l'assessore tutte le settimane che ci viene a riferire sull'andamento della campagna vaccinale e tutti i commissari hanno modo di interloquire con lui e con tutti i tecnici dell'assessorato. Ovviamente non abbiamo niente da nascondere. Siamo assolutamente disponibili ad approfondire tutti gli aspetti sui quali le forze dell'opposizione nutrono ancora dubbi. Io credo che i numeri parlino chiaro rispetto all'efficacia della campagna vaccinale in Toscana e quindi gli argomenti ci sono tutti. La nostra disponibilità è chiaramente quella un confronto pur che sia serio nel merito e delinei secondo me oltre ai dubbi anche gli ottimi risultati che la regione ha conseguito. Secondo noi questa commissione ha un compito molto importante non solo quello di far luce su quello che è accaduto durante la gestione della pandemia. Tutti stiamo al corrente che alcune categorie hanno avuto un accesso privilegiato ai vaccini ma anche quello che è stata tutta la gestione dei dispositivi di sicurezza, delle risorse su come e dove sono state stanziate e non ultimo anche il famoso piano pandemico che a tutt'oggi a noi dietro richiesta di accesso agli atti e interrogazioni non risulta pervenuto. Quindi avrà un grande compito questa commissione non solo riguardo ai vaccini ma un po' a tutto il mondo della sanità perché è notizia di oggi che alcuni medici del pronto soccorso si sono dimessi per le condizioni di lavoro massacranti. Ecco io credo che la commissione debba svolgere un ruolo investigativo piuttosto pesante perché ci sono tante criticità su questa gestione della pandemia e la situazione di pronto soccorso è una evidente conseguenza. Io non partecipo, Italia Viva non partecipa, abbiamo scelto di stare fuori dalla commissione d'inchiesta perché non è il momento e non è opportuno, è fuori luogo, è fuori tempo tutto, fuori tempo massimo, le cose si fanno quando servono, noi abbiamo portato i primi a fare le critiche quando la vaccinazione non funzionava, devo dire però onestamente che ogni richiesta, ogni proposta, ogni modifica che io ho avanzato è stata accolta, devo dire la verità, lo abbiamo fatto negli hub, nel cambiare il modo, nel cambiare e definire le priorità nelle fasce, nella scuola, in tante questioni che noi abbiamo posto siamo stati ascoltati, quindi era quello il momento in cui avanzare le critiche, siamo costruttivi, noi siamo a favore del nostro Presidente Gianni, siamo a favore di tutti coloro che poi da mesi, direi da anni, stanno dentro gli hub di vaccinazione. Oggi pensare che quelle persone debbano essere indagate dalla politica che sta seduta nelle sedie, secondo me è assurdo. Noi siamo a favore dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari che poi tutti i giorni a fare vaccini ci vanno, a curare le persone ci vanno e oggi sentirsi indagati dalla politica credo che sia scorretto. È il motivo per il quale Italia Viva non partecipa alla commissione di inchiesta in ambito regionale perché poi le cose alla fine si sono fatte, sono state fatte bene e poi alla fine oggi i vaccini ci sono. È il motivo per cui la nostra è una scelta politica. E dopo la commissione entriamo proprio all'interno del Consiglio regionale della Toscana perché nell'ultima seduta si è parlato anche di quella che è la questione che riguardano i rifiuti e non solo no ai termovalorizzatori, no alle nuove discariche, si invece alla costruzione di una vera e propria industria dei rifiuti che sappia stare sul mercato. I rifiuti non sono un problema da risolvere ma una risorsa come tali devono essere valorizzati alimentando un'impiantistica che porti benefici economici e occupazionali. La rivoluzione verde è stata illustrata in Consiglio regionale dall'assessore Moniamonni e una sfida a trasformare i rifiuti in risorsa. Il nuovo piano dei rifiuti in Toscana vuole quindi cambiare di fatto la concezione tenuta fino ad adesso attraverso un approccio che si incardina perfettamente su quella che è la normativa sull'economia circolare già varata. Il Consiglio regionale quindi approva anche la proposta di risoluzione del Partito Democratico collegato alla comunicazione dell'assessore all'ambiente Moniamonni e respinge invece gli atti presentati dalle opposizioni. Questo piano sarà un piano che dal punto di vista della dotazione impiantistica vorrà utilizzare anche nuove moderne tecnologie per superare e la cosa doveva essere anche già avvenuta più di quanto lo è oggi l'utilizzo delle discariche per limitare al massimo l'utilizzo dei termovalorizzatori per trovare invece le modalità per cercare di riciclare, di riutilizzare il più possibile di quello che fa parte dei rifiuti. Ovviamente ci sarà anche una modalità nuova, un approccio che rende questo piano assolutamente non dirigista perché attraverso un bando saranno raccolte anche delle disponibilità, delle proposte provenienti da aziende pubbliche e private per la realizzazione di impianti di smaltimento e di riutilizzo. Ovviamente questo non vuol dire che c'è una cessione nei confronti del cosiddetto mercato di quella che invece è una modalità e una prerogativa che deve rimanere saldamente in mano alla regia pubblica. Oltre a questo un'attenzione particolare sarà rivolta al tema delle tariffe e per quanto riguarda questo è importante sarà anche vedere quali saranno le risorse che il sistema sarà capace di catturare anche per fare investimenti, per realizzare impianti, insomma per non far gravare la realizzazione dei medesimi sulla tariffa così come invece accadrebbe perché prevede la legge. Siamo in ritardo di più di qualche anno, scorsa legislatura abbiamo aspettato per cinque anni il piano rifiuti e non è arrivato, siamo indietro su tutto, sappiamo che siamo la terza regione in Italia per tariffe, quindi i cittadini toscani sono quelli che pagano tra i più alti in Italia il costo dei rifiuti, sappiamo che in questa comunicazione si dice tanti no ma non riusciamo a capire come riusciamo a poter superare la fase transitoria che va da oggi a poi cercare di aprire questo mondo del riuso e della rivalorizzazione di quello che è il rifiuto e che è giusto iniziare a chiamare materiale e quindi abbiamo qualche dubbio su come si riesca a superare le discariche che è il grande nodo della Toscana, oltre il 30%, il 34% dei rifiuti va in discarica, l'Europa ci dice che dobbiamo rimanere sotto il 10%, ricordo che la discarica è di fatto l'impianto più inquinante e non lo diciamo noi, lo dice la comunità europea e non sappiamo tra questo passaggio e quello dove vuole arrivare l'assessore Monni come si farà ad andare a smaltire i rifiuti. Ma più che il piano di rifiuti si tratta di un piano dell'economia circolare, è un'inversione di tendenza positiva che cogliamo con grande favore, che sosteniamo perché siamo convinti che la Toscana debba essere una regione innovativa in temi di rifiuti, non soltanto nella raccolta differenziata, gli obiettivi che ci si pone sono ambiziosi, quelli dell'85%, qualche comune è già in grado di farlo, quindi sono obiettivi realistici, plausibili, possibili, realizzabili e poi serve riciclo, serve ovviamente riutilizzare la materia, fare economia circolare, colgo un elemento di grande positività, si va verso la chiusura delle discariche e allo stesso tempo verso la possibilità che i privati possano giocare una partita importante dentro una manifestazione pubblica di interesse che deve essere svolta a livello regionale e con procedure semplificate per quanto riguarda anche l'approvazione del prossimo piano dei rifiuti. Il piano dei rifiuti cambia nome, si chiamerà piano dell'economia circolare, ma nella sostanza non si è capito noi, ma non hanno capito i toscani e le imprese toscane dove dovrebbero andare i rifiuti, come si farà a diminuirne la produzione, come si farà a migliorarne il riciclo e nella fase di transizione rispetto alla creazione dei richiamati, nuovi impianti di quarta generazione, non si è capito bene cosa dovranno essere, che cosa si farà di quella percentuale di rifiuti che non è riciclabile e che quindi dovrebbe in qualche modo essere trasformata in energia. Peraltro si continua a rinviare la chiusura delle discariche, ad oggi la Toscana conferisce ancora il 35% dei rifiuti in discarica, cioè sostanzialmente mette il proprio sporco sottoterra, determinando così un inquinamento ambientale che è purtroppo diffusissimo e soprattutto continuando a non avere un piano dei rifiuti lascia aperte le porte a infiltrazioni anche malavitose, così come è stato certificato dalla Commissione parlamentare sulle infiltrazioni mafiose già nel 2018. Noi temiamo da questa giunta, l'abbiamo sempre temuto, dal governatore che avrebbe imposto la discarica sulla costa nel Livornese con i carri armati, come disse in campagna elettorale, che ancora possono essere previsti allargamenti delle discariche e altri termovalorizzatori e questo non è chiarito bene all'interno della comunicazione. Al nostro ordine del giorno, alla nostra proposta di risoluzione in cui si chiedeva di esplicitare il modo in cui sarebbero arrivati agli obiettivi che sono stati elencati e cioè disconoscendo completamente l'ipotesi di poter utilizzare di nuovo termovalorizzatori per quanto nuovi oppure discariche, la proposta di risoluzione è stata bocciata e questo ci fa pensare che in realtà tra le righe di questa comunicazione ci siano ancora questi passaggi come un'ombra del passato che ancora si aggira sul piano dei rifiuti e bonifiche presente. Bonifiche che ricordiamo la Toscana ha il triste primato di quattro sin presenti di cui tutti e quattro sono sulla costa e due nella provincia di Livorno. È un vero e proprio punto di riferimento per attività di riabilitazione funzionale di tutta la Toscana Meridionale in pochi anni dal 15 di luglio del 1999 data della sua costituzione formale il centro di riabilitazione toscana di Terra Nuova Bracciolini in provincia d'Arizio è una società per azioni a prevalente capitale pubblico è diventata non solo parte integrante del sistema sanitario regionale ma anche del sistema di ricerca nazionale nel settore. È stata presentata all'interno del Palazzo del Pegaso. Ci sono tanti progetti insieme a loro progetti sul campo questi due anni di Covid ci hanno insegnato che la ricerca è fondamentale soprattutto fatta sul campo il Covid ci ha insegnato a imparare sul campo e questo è quello che viene fatto al centro da sempre con accuratezza con attenzione non soltanto alla parte sperimentale innovativa ma soprattutto alla qualità della vita delle persone perché non sempre l'innovazione tecnologica l'innovazione professionale punta alla qualità questo è fondamentale lì si curano persone che hanno anche grandi miglioramenti ma si curano persone che purtroppo per la loro situazione possono non avere enormi miglioramenti in quel caso ciò che conta e ciò che la sperimentazione porta avanti e l'innovazione porta avanti è la loro qualità di vita. Non è più il paziente che si sposta per andare a fare la riabilitazione ma è il riabilitatore che entra in reparto e fa quello che deve fare è un'eccellenza sì è un'eccellenza perché c'è questo interesse particolare questo volere in tutti i modi fare del paziente il centro di tutte le attività. L'attività che viene svolta presso il centro è un'attività di tipo traslazionale quindi essenzialmente orientata a produrre dei risultati che siano in grado poi di migliorare i percorsi di cura dei pazienti per questo motivo utilizziamo degli strumenti innovativi che sono finalizzati e ad individuare nuovi metodi diagnostici e a sviluppare nuovi training riabilitativi che siano specificamente indirizzati verso le difficoltà che un paziente può presentare in seguito ad una lesione cerebrale acquisita. È un centro di eccellenza perché rappresenta uno strumento irrinunciabile nell'evoluzione che sta vivendo in questo momento lo studio del cervello è un interesse straordinario che le neuroscienze hanno nei confronti della riabilitazione La riabilitazione sarà inevitabilmente trascinata dall'evoluzione delle neuroscienze Dentro questo centro di eccellenza si svolgono diverse attività di ricerca in ambito della riabilitazione quindi c'è la volontà di sperimentare nuove metodiche di riabilitazione che portano ai pazienti migliori cure e percorsi più efficaci E per questo appuntamento è tutto, vi ricordo per tutte le informazioni e gli aggiornamenti il sito internet www.consiglio.regione.toscana.it Io vi aspetto come sempre qua tra sette giorni dentro il Consiglio Grazie a tutti